Ben ritrovati amici e amiche all'appuntamento con le previsioni per questo venerdì 30 dicembre. La bassa pressione che ha portato in stabilità e aria molto fredda dei quadrati nord orientali si sta rapidamente muovendo verso est a causa della spinta dell'anticiclone delle Azzorre proveniente da ovest. Le ultime precipitazioni quindi sono attese sul medio basso Adriatico e al sud Italia ma il tempo è destinato a migliorare nel corso della giornata. Nel dettaglio in Abruzzo avremo ancora locale in stabilità segnatamente sulle zone più interne a causa del fenomeno dello Stau. Quindi avremo qui maggiore nuvolosità e maggior rischio di precipitazioni nevose se una quota è molto basse, sin verso i 100-200 metri di quota. I fenomeni tuttavia saranno molto localizzati e non avremo nevicate significative e molto forti. Maggiori spazi soleggiati sull'area costiere e sulla Abruzzo settentrionale. Le temperature saranno comprese fra meno 1 e 1 grado di L'Aquila, 4-8 gradi di Pescara, 0-4 gradi di Eteramo, 0-5 gradi di Chiedi. Quindi un clima ancora molto freddo e soprattutto ventoso, specie sulle coste. Con questo abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.